Siamo in attesa di una risoluzione delle Nazioni Unite ed è questo che attendiamo, le indicazioni, le istruzioni, le direttive delle Nazioni Unite. Il secondo criterio è ascoltare i libici, non si può fare nulla che sia contro i libici ma occorre il loro consenso e questo è quello che carterizza l'azione del nostro Paese, quello che mi pare sia condiviso in maniera ampia e adeguata. Quando vi sarà una decisione dell'ONU e quando la Libia avrà trovato una condizione che la faccia uscire da questo stato di mancanza di autorità, tutti saranno pronti, l'Italia anzitutto, ad aiutare in ogni maniera possibile, naturalmente in maniera concordata e autorizzata all'ONU.